L'attaccante schiaccia fuori perché la palla non era alzata bene. E allora cosa dice? Che nel gioco vuol dire la voglia un po' più alta e più vicina a rete. Il palleggiatore allora, e questo è il gioco di squadra, o meglio, non il gioco di squadra, il palleggiatore se gira e il ricevitorio dice ragazzi voglio la palla qua. Perché se voi non ricevete bene che io ho la palla qua e devo correre a prenderla, io non posso essere preciso e non se la do come vuole lui. Per cui lui schiaccia fuori perché io non se la do come vuole lui, ma io non le do come vuole lui quando lo ricevete male. A quel punto i ricevitori si girano a trovare su chi scaricare, ma i ricevitori ricevono la battuta avversaria, per cui non possono dire all'avversario batte facile, così io ricevo bene, lì finisce la catena. Allora la nuova forma, perché io ovviamente questo ho detto una regola molto semplice, ho detto che gli schiacciatori non parlano dell'alzata, la risolvono, non la giudica in nessun modo, la risolvono. Adesso ho una nuova battaglia, perché? Perché che fanno gli schiacciatori? Non dicono la voglio più così perché sanno che io sto così, con l'ace in mano, poi non lo dicono. Cosa fanno? Ogni volta che è buona le dicono perfetta. Non le dicono e quella era brutta, ma se dicono questa è perfetta vuol dire quell'altra non lo è. E in definitiva parlano dell'alzata e io mi nervosisco, continuano a parlare dell'alzata. Sono esperti dell'alzata gli schiacciatori, sanno tutto dell'alzata. Uno li trova al bar e parlano degli alzatori, gli schiacciatori. Piccolo problema, loro schiacciano, non alzano. Allora, io voglio schiacciatori che schiacciano bene palloni alzati male. Voglio questi, perché questi poi, quelli alzati bene, li schiacciano benissimo, non bene. Uno che schiaccia bene palloni alzati male, quelli alzati bene li schiaccia benissimo. Voglio quelli lì. Quindi non ne parliamo, risolviamo. Se la realtà è come è, e non come io voglio che sia, la pala è bassa, mio cervello, che è un computer straordinario, deve aprire tutti i file con il titolo Pala alzata bassa. E in questi file ci sono le soluzioni per le pala alzate basse, che sicuramente non è schiacciarla come se fosse alta. Questo è poco, però sicuro. Ci sono altre soluzioni. Devo usare una di quelle. Se invece con la pala è bassa, lui non apre nessun file, oppure apre il file alzata, certo che la soluzione non la trova. Perché sta spendendo tempo, invece di aprire il file, a dire questa palla è un po' bassa, secondo me. Per cui, in tutto quel tempo lì appara... Grazie. Grazie.